A sedere qui, a rispondere di questo piaciato, non so se la voce si riesce a sentirla, se è rumore dell'altra, mando un caro saluto agli amici di Facebook e tutti, buon primo maggio, la festa dei lavoratori, io ho lavorato tanto e ora sono a riporti, voi che ci avete anche da lavorare, vi faccio di nuovo tanti cari amici, in particolare un saluto alla fata che mi ha ribattezzato Elfo, pensando di avermi fatto il disperto, anzi, è la difficissima la ribattezzatura da Elfo, ciao cara fatica, un saluto anche a tutti gli altri, questo è un posto meraviglioso, io passo le mie giornate per i boschi o in mare, un giorno vi manderò qualche video che riguarda la Capraia, la Gordona e cos'altro, e ora mi rimuovo dal mio tronco e vi saluto di nuovo, ciao!